Amici sportivi di MondofutsalTV e di ZonaPontina.com benvenuti alla finale della Zona Pontina League Olimpo della birra contro carrozzeria artigianato Bonpanna Io sono Stefano Scala e con me sono in compagnia del zio Claudio Meschino E commetteremo insieme questa finalissima della... adesso è arrivato un altro grande protagonista della Zona Pontina League Siamo quindi in tre con Mario Tiberi E commetteremo insieme la finale della Zona Pontina League Abbiamo detto si affronteranno Olimpo della birra contro carrozzeria artigianato Bonpanna Aspettiamo solo il fischio di Robert Scarica Partiti, hanno dovuto essere con noi qui in questa finale Intanto il primo tiro in porta è di Luca Rugato Potevamo magari ambire alla finale, però buon per loro Ecco anche il primo tiro in porta dell'Olimpo della birra è di Davide Napolitano Ma l'Aurora para con i piedi, la conclusione c'è una volta anche miglior giocatore Di un'edizione invernale della Zona Pontina K Attenzione adesso è Rugato, tutto con il destro, il tiro di sinistro Ma Napolitano con il piede, la mette fuori e di nuovo calcio d'angolo per Bonpanna Inizia a crescere la squadra campione invernale Subito una palla persa per Ciocca Che parte in contropiede, chiude in uscita Mario Napolitano Si parte con una rimessa, attenzione proprio Attenzione a Farelli davanti a Napolitano Grande movimento di Farelli ma davanti a Napolitano sbaglia Ci ha anche provato ogni tanto, veramente elodevole E ancora una volta intanto Mario Napolitano risponde presente su una conclusione bellissima di Rocato Un bel fendente dalla destra, un diagonale sul secondo pallo con il destro Napolitano con il piede È riuscito a deviare, ancora Rugato ci riprova Attenzione ancora un altro contropiede, un buon momento per l'Olimpo Romito lancia Napolitano, sulla destra Napolitano E abbiamo visto perché Armando Laurora è stato premiato come miglior portiere Di nuovo per Fusco, Rugato cerca di farsi vedere, sta facendo movimento anche Riccardo Ciocca Termina qui il primo tempo della zona Pottina League Il primo tempo è finito 0-0 ma tante le occasioni per la squadra di Paolo Corbucci in maglia blu In lo scontro tra Racciatti e Rogato Dribbling di Rogato secco su Racciatti Ancora una volta Mario Napolitano in uscita Il nostro Claudio Meschino riesce sempre a cambiare discorso E ad attenzione perché Artigianato Bonpane è passato in vantaggio Proprio lui Luca Rogato Adesso la palla per Rogato, proprio lui l'ha persa Racciatti va a servire Napolitano il tiro La palla è fuori, stavolta Napolitano poteva fare di più Facilitato l'uscita di Laurora e comunque ha fatto un grande intervento Adesso in mezzo a due, ancora Racciatti Interviene Fusco, i due si scontrano Alla meglio il giocatore di Bonpane che sale in contropiede Due contro uno, Farelli Corbucci Farelli va sul destro, ancora il servizio per Corbucci Il gol di Paolo Corbucci Il capitano di carrozzeria Artigianato Bonpane raddoppia Attenzione alla punizione, il tiro di Napolitano La risposta di Laurora, prova Santoro Sulla ribattuta Si salva Bonpane con Fusco Ancora Racciatti Ennesimo passaggio sbagliato Due contro uno Adesso sono tre addirittura Rogato il servizio Perciò c'ha di nuovo un grande intervento di Napolitano Che tiene in vita l'Olimpo Attenzione al contropiede Napolitano per Santoro Il pallone troppo lungo Uscire bene con Racciatti Attenzione adesso al contropiede Santoro, Davide Napolitano Cerca il dribbling Ancora Davide Napolitano Tiro, l'intervento di tutta la retroguardia dell'Olimpo Attenzione adesso a Racciatti Sono in tre In tre, davanti all'Aurora Racciatti non riesce a centrare La Porciatti interviene Si sta giocando il tutto per tutto L'Olimpo ancora Santoro Ma l'Olimpo adesso sta sbagliando di tutto Perché queste le Queste ultime due occasioni di Santoro Sono due palle da non sbagliare Attenzione adesso Tre contro due Ed il gol di Zofrea Tre contro due Napolitano è infuriato con i suoi compagni Per Santoro Attenzione all'ennesimo contropiede È solo sciocca Contro Napolitano È rientrato Chiaregatti che ha salvato Ancora Chiaregatti Il passaggio per Napolitano Tiro di Napolitano Santoro È arrivato il gol È arrivato il gol Del primo a festeggiare Proprio lo zio Meschino Sono arrivati anche 16 euro 1,60 Era quotato il gol Dell'Olimpo Attenzione adesso a questo contropiede Di nuovo Davide Napolitano Chiaregatti Il tiro di Chiaregatti Salva tutto Zofrea L'Olimpo della birra Non mola mai Non state tante Quindi può sempre uscire Un'altra occasione Ed arriva adesso Il gol di Santoro La doppietta di Santoro Dopo due errori clamorosi Il gol che riapre la partita Come sottolinea Giampiero Terenzi Santoro serve Chiaregatti Pallone per Napolitano Attenzione all'occasione Di Davide Napolitano Ma Armando Laurora Interviene Proprio sotto la travezza Smanaccia Sbaglia assolutamente Il passaggio Contropiede nuovo Del Artigiano do Bonpanna Farelli Errore Clamoroso ancora di Farelli Sale Napolitano E finisce qui Finisce qui Carrozzeria Artigiano do Bonpanna Si laurea ancora una volta Campione Della zona pontina League Trofeo Easy Place Ha battuto 3 a 2 L'Olimpo della birra Nella finalissima E bis il successo Della scorsa stagione Nell'edizione estiva E del campionato invernale Da Stefano Scala È tutto Un saluto a Claudio Meschino E arrivederci con Le telecroniche Di Mondo Futsal TV Un saluto a Claudio Meschino 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 Grazie a tutti